Controlli domiciliari, poliziotti beccano a due soggetti e denunciano 39 anni per furto gasolio. La gente della volante nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale hanno denunciato due persone sottoposte agli arresti domiciliari e una sottoposta all'obbligo di dimora poiché assenti al controllo. Infine i poliziotti alle 5 di questa mattina transitando per via Van Vitelli sorprendevano un uomo di 29 anni già conosciute le forze di polizia per reati contro il patrimonio in possesso di una tanica con all'interno 8 litri di gasolio di cui non forniva alcuna spiegazione. L'uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione.